Bella a tutti ragazzi, eccoci qua su GBR finalmente, una nuova serie con Lainard con in 2 vs 6 contro il computer Allora diamo un po' di dettagli, difficoltà, difficile, ecco, gli altri hanno l'eroevo a livello 12 Ah, si ho sbagliato, ho messo, comunque faremo poi anche col 5, lo faremo, lo faremo, col 5, si anche con quello lo faremo Con l'oro aumentato anche l'oro, ah ok, bene direi che possiamo iniziare allora, dai 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 dai, mi sento carico Mune Allora si eh, dai, dai, oh che bella partita, minchia, quel villaggio dietro, Ale mi lasci quel villaggio dietro a te No, dico già no, perché no, fisso proprio, fisso, dipende, l'eroevo è prima, no dai, l'eroevo è per le palle No dai, che scherzo, non te lo rubo E' mio, è mio Ok Allora Gioco dimenticato dal tempo, ma io ci gioco ancora, è troppo bello, vero Ale? Sì Non ti stare in gara Ah, tu ci sei già preso i primi laggi Certo Me lo lasci quello lì, ti prego No, no, non ti lasci Ma fai cagare Ale, a me non mi lasci, non mi, non mi, non mi, non mi, non mi lasci un cazzo Non mi lasci neanche un villaggio No Dai, quello lì, dai, quello lì, questo qua, dai, ti prego, me lo lasci Quale? Quale? Quale è questo qua? E se lo abbiamo andato a rimuovere, non posso lasciarlo, mi dispiace Ma dai, la gioco qui sto, anche questo, mi dimenticato di sforzo Dai che l'ho conquistato È mio No, l'hanno preso Ma no, vabbè, io tanto gliel'ho conquisto con un solo uomo Anch'io Se c'è lo stremo, non c'è niente Ah, ma scusa Se c'è lo stremo È un guerriero disperso nella mamma Non mi viene Mi prende a culo il gioco Mi prende a culo il gioco Mi prende a culo il gioco Mi prende a culo E' un nicolato E basta Comunque, prima Direi Chi? La Bretagna Roppe il cazzo Ok Ma perché l'hai conquistato? Cosa? Cosa? Che cosa? Ma no, quel cazzo Quello lì è a livello 12 come me Più forte di me Quello lì quanto Sì, vabbè, si è salva d'attacco Ma chi? Niente Hai conquistato tu il villaggio Penso che lo stavo conquistando io A me, io praticamente Io ci sono Tra poco Tra poco devi abbassare la città Tra poco Sì, sì Aspetta che ho finito Posso imparare le cose Ok Sì, sì Tanto Adesso Posso conquistarmelo io Quello lì dove ci sono Così, a me Sì, ma mica Quanti cazzo Mi indirizzi un po' di villaggio a me Dai, ti prego Sei una merda Dai Ma bene Dai, è un villaggino a me solo Adesso mi riconquistano, guarda Chi quante cazzo Da po' di ballare E io Mi chDC Mirecchiamo Mi chDC E io Mi chANCchiamo Mi chDC Mi chDC Mi chDC Ma Mi chDC Allora, benissimo Qua direi di farci questo Adesso Poi direi di farci anche la servitù Appena c'ho i soldini Perfetto E basta E basta Ma lo sai che sono così Vanno sempre sui villaggi Ma non sono per un cazzo Ma perché poi negli eserciti Loro mettono anche i sacerdoti Ma secondo me non sono un cazzo Anche se si curano Va bene che hanno le abilità che trovano un bordello Direi che qua io sono a posto Dai mi sto conquistando un villaggio Sì ma campamenti teutonici in sta mappa non ce ne sono Uno ce n'è No due Oh che fallo Due li hanno già presi Non profaneranno il nilo Mi si l'hai avvelenato per bene questo esercito Un esercito romano Questo qua Ah eh vabbè Beh tanto vinco io No però c'hanno i tribuni Hanno contenimento No non lo usano Non lo usano Sì però mi hanno già fatto con gli omini Due Omini Ominidi Sono il più infallibile Onoriamo Osiris La vittoria ci aspetta Ominidi Va bene adesso batteremo anche questo esercito Perfetto Grazie Perfetto ho battuto anche un altro esercito Tu come va da te? Chiedo Bene bene Non profaneranno il nilo Forse Ma guarda Devo dire che Qua Oh sono sempre raggruppati Guarda sta zona Guarda C'è comunque la suddivisione Sì infatti I due gitti contro i sei Non cazzo ho sbagliato Sì che sto crescendo Ok Bene Noi andiamo lì Boh bene Con questi andiamo a conquistare i villaggini Fa quello di Cardosiris Eh? Un Cardosiris Sì Inizio Dove poso lo sguardo Poso la mia freccia Dove poso lo sguardo Guarda Due eserciti Non lo credono Loro che Tre eserciti Ma credete di vincere? Sono proprio convinti Convinti Ma è fuori che sono buoni Da usare o no? Io non mi ricordo L'ultima volta che ho usato Cardosiris Lo usano Sì Fuori che non sono forti No no Costano tanto ma Sono solo veloce Stavamo il nemico Il nemico Non mi ricordo che C'è tanto che non ho usato Il passaggio è difficile Dove lo fare Però c'è i miei fatti da guarda Che sono davvero bello I nobili Oh e minchia Vero i nobili Costeranno anche tanto Ma Ne vale la pena Perché conquisti i villaggi Che Ma Clare è più pronto Allora tu me li hai presi prima Oh figli Faccio a metà e metà Tanto rimengono a conquistare il villaggio Dove sono arrivati questi guerriglieri? Ha abbassato la scuola Non passeranno Sono il più infallibile Eh due c'è È a 198 Non profoneranno il dilo Ok Questo villaggio è mio Guarda Praticamente è una lotta Senza per i villaggi Eh devo dire Vero? Posiziamo lanciatore da asci Oh li ho venenati Nooo Minchia me ne sono accorto Ah beh Nermale non sono morto Il fanni è stato fuori No No Oddio Il fanni mi ha fatto fuori L'eroe No Vendicati 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 Mi stanno distruggendo i cosi Vendicati Va bene Va bene Va bene Va bene Onoriamo Osiris Cadranno davanti alla mia ascia Onoriamo Osiris Non profaneranno il dilo Sono il più fallibile Io sono sempre lì Oh ne hai conquistata È di roba tu Tutto blu Eh non lo diriamo Mi hanno mandato due eserci Bene Dove dovrei che Credo di rinforzare Tanto l'eroe Glielo Stringo Bene Perfetto Allora benissimo Qua siamo a posto Gli abbiamo distrutto Anche un altro esercito Ma scusa Questi dov'è Cacchio Dai 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 Allora Che livello è il tuo migliore eroe? Il mio livello 22 Adesso mando di nuovo i cari di Osiris A conquistare Uomini ne ho una centina Diciamo quasi Centinaia Una centina Centinaia È un metodo mio Ma vai di nuovo Contro la gallia? Non lo so Vinga ma quanto cazzo Di cosa hai conquistato? Tempo Vincia Bravo Allora bene Qua dove c'è possibile andare? Puoi Vabbè Vincia ma hai conquistato Tutti i villaggi possibili Tutti solo con le mie zone È conquistato tutto Ma vuoi praticamente Abbattere la gallia Il mio primo bersaglio Io so cos'è Sarà Sarà La Roma verde Cioè La Roma repubblicana No la Roma imperiale Guardali Oh Ale guarda qua Cosa hanno mandato Guarda 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 i cartaginesi Paura di qualcosa Cartagini 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 fa paura Ok Oh Hola Decliento Morto l'eroe Eh però qua me ne fanno fuori un po' I edilità comunque Ok Vabbè però salvo un po' di livello Così Questo Allora Allora Destroggiamo il nevito Eh sei unita Sono un ottimo indietro che dove mi faccio vedere l'uomo Non passeranno 5 Non profaneranno il nilo Ok Ma poi si sono neri Boh Minchè hai esplorato praticamente mezza mappa Praticamente la Gallia è morta Diciamo La Gallia non cazzo Ale Guarda dentro il foro Cioè 7 uomini mezzi spaccati Ok Io direi di dargli il colpetto finale Come ti uomini è stato Inutile di dare un attacco poi a Roma Sì Poi si gli spacco Dai dai Vieni guerriero di fan Non cimi indietro io Vieni Ok direi che è stato lo voglio Vieni sì Se l'ho buttata giù Io ho buttato giù un altro esercito Attacco da Betania Tutte e due Pazzia Che pazzia Fattibile Fattibile la cosa Dicene Ma non stanno facendo un cazzo Anche se gli abbiamo dato un error di 1.12 Bene io mi sa che putto giù Roma Vai Tu tacca Roma E tacca Roma e vai Cioè No ma aspetta ancora un attimo Ma quando aspetta dai Io gli divertisco Troviamo Osiris Non passerà Scadranno davanti alla mia ascia Ok Sono partito Alla rimboggio Ma cosa è più Roma Quanti viveri che c'hanno Sì cosa fanno i viveri Li butto via Cosa fanno gli sti viveri Qua Minchia 41.000 di viveri Fai schifo Eh Oltro Ma comunque non stanno facendo veramente un cazzo Stanno giocando questo game C'è la galla che Ma stanno facendo cagare dai Vabbè Ne approfittiamo Adesso Guarda da Noobis Questo mi piace poi un po' di roll Dai ti do una mano a conquistare la betania Ma tu Dai almeno Siamo con un po' di livello Non ho per falle Anche insieme Questi credono in buttarmi giù Ma non mi buttano giù Anche questi Ma perché fate un esercito Minchia va bene che è difficile No dai ma non è possibile Dai ti butto giù un po' di arcienio Bene Anche ancora a livello 1 sono Ah è tua Dai ti do una mano a conquistare la galla Io direi di fare poi l'attacco finale adesso Dico direi di mandare poi tutte le tue da 1 E tutte le tue da 1 Vabbè dai io adesso tanto attacco l'uomo È questione di tempo Fisate Tanto ne odio in vita Non profaneranno il Nilo Non profaneranno il Nilo Dai tanto c'ho l'Egitto io Sto aiutando Ma cosa volete fare? Cosa volete fare? Oh direi che le temba Oh io mi do la ritirata Quindi vado al foro Non profaneranno il Nilo Sono forti l'Iglander però eh Bastante Cadranno davanti alla mia ascia Mi aspetta la vita Sono il più infallibile Che dici? Oh madonna il caudio non ce la faccio Guarda che hanno mandato Hanno mandato un casino Guarda a me Missica quanti liberi Quanti cacchio te l'hanno mandati No No ce la fai ce la fai dai Scappo non ti godarmi Allora benissimo Poi adesso facciamo servitù Andiamo ad attaccare Roma Aspetta che non ce la faccio forse Ma si Guarda quanti ce ne sono 40 unità Io vado ad attaccare Roma Bacca Roma Bacca Roma Guarda cos'ha il giallo C'ha solo due fori Ma perché usi il tribù Ma sono mezzi in abbi dai Ma cosa fa il tributo? Il tribù riceve un casino d'oro da tutti i fori Qualche volta io lo uso Chiudere quindi se è ora non so Si con due fori Con due fori non riceve un cazzo Quanti cacchi Ecco Bene Boh bene, mi sa che qua... Che palla? Non ce la fanno a busta la raga, le potete riconquistare? No, non ce la fanno a busta. Sì, mi hanno giocato malissimo eh. Sì, è vero. Hanno giocato veramente male. Chiaramente avete fatto veramente cagare. Non è stata combattuta come è di solito eh. Mi faccio dentro. No, mi faccio un po' di arcella. Arcelli pronti! Mi faccio un po' di Anubis. Io qua mi faccio ancora un po' di esercitini. Basta, stacchiamolo. Andiamo contro l'Alcaromale. Io vedo quanto vuole la Ramagliola. Io direi che vado contro allora... Vado contro Cartagine io. Vai. vado contro l'Alcaromale. Dici che va. Boh dai, io vado con il mio Cartagine. Poi boh Io direi che faccio anche un attaccino A Liberia intanto Mando tutto Manda qualche unità contro Liberia Aspetta Non riesci Ma dai perché non hanno un cazzo Tanto i cartaginesi si devono difendere Guarda quanto liberi Ce la fai? Sì Ma no Dove è il mio reforte? Minchia non lo trovo Minchia non lo trovo Oh vabbè Che cazzo me ne frega Minchia ho perso il mio reforte Non so neanche dove sia Boh è mia Ok contro Liberia Tutto contro Liberia Manda vai Oh sta Iberia Ma che ne subisce Di danni Sono gli eroni del reforte Eh? Sono so con gli eroni del reforte Ah sì? Ma che cazzo se ne fa? Ma dai Sono scandalosi quelli dell'Iberia Liberia è forte Sare senza usare Perché mi ero Liberia è come la gallia Che fa subito Con le sacerdudette Ti fai i uomini A livello 12 Dunque è fortina anche Liberia È da usare Ogni sera Allora io ho conquistato tre Vediamo se hai conquistato anche quattro Trenta Venti Dieci Mio Hai vinto Oh oh Bella Bella Ci vediamo nei prossimi Ah no aspetta aspetta I parametri Allora Vi avessi utilizzati Ne ho utilizzati più io Di te Tu hai usato più oro Produzione di ora Io Nei forti Unità Massimo ne ho avuto più io di te Eliminate sempre tu Punteggi Militare questa volta ti ho battuto Vabbè Direi di Vabbè Assessi